Siamo con Daniele Gortan, direttore del Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione di Anci Friuli Venezia Giulia. Come definirebbe, in tre parole, Open Agenda e Comun Web? Partecipazione, competenze e sviluppo. Partecipazione perché noi in Friuli Venezia Giulia l'abbiamo adottato dal Consorzio per accompagnare i processi di fusione, i processi di crescita dei territori. Partecipazione anche perché lo abbiamo adattato assieme ai nostri centri di competenza e partecipazione perché in particolar modo Open Agenda è utile per quanto riguarda la partecipazione delle associazioni alla vita dei territori. Competenze perché per noi è stato un momento di accrescimento delle competenze di tutte le persone che abbiamo coinvolto nello sviluppo di Comun Web e sviluppo perché lo stiamo utilizzando per lo sviluppo dei servizi e lo sviluppo dei territori assieme ai nostri comuni.